Musica Ragazzi di tutta Europa si sono sfidati ieri a Milano suon di salti e acrobazie per la tappa italiana del tour europeo OC 2007 Il mondo europeo dello skateboard si è trasferito per un giorno a Milano Al Trinity Skate Park in zona Bovisa si è tenuta la tappa italiana del tour europeo OC 2007 dedicata agli under 18 Giovani skaters provenienti da tutta Europa si sono trovati a Milano per aggiudicarsi una qualificazione per la tappa finale del tour a Bria Rizzi in Francia dove verranno messi in paglio biglietti di andata e ritorno per gli Stati Uniti E così ragazzi tra i 10 e i 18 anni si sono sbizzarriti in only flip, board, slide e transfer sulle rampe del Trinity Skate Park e sotto gli occhi attenti dei giurati capitanati da Luca Basilico che hanno valutato difficoltà delle figure realizzate, chiusure, impegno e ovviamente originalità E il podio se l'è guadagnato Nicola Giordano Milanese che ora dovrà battersi a suon di salti nella tappa finale francese per aggiudicarsi un viaggio per due persone per gli Stati Uniti casa madre del mondo dello skateboard Grazie a tutti